Ansa, Trento, 14-8, la VAR ha aperto la porta al futuro del calcio, indietro non si torna. Si può riassumere così il pensiero di Roberto Rosetti, responsabile del progetto VAR in Italia. Sappiamo tutto, e, spiega l'ex arbitro, nel corso della Catone di calcio, a Trento, siamo coscienti dei limiti tecnici, dei problemi esistenti. Sappiamo che ci sono stati alcuni errori. D'altra parte, prosegue, stiamo utilizzando la VAR da soli due mesi ed è normale, che siano necessari taluni aggiustamenti. In altri paesi la tecnica è più matura, e quindi la VAR funziona meglio. Ripensamenti. Neanche a parlarne. Perché per Rosetti, è in ballo la giustizia nel calcio.